Ciao a tutti, sono Laura Barruzzi, istruttore federale FIPSAS, che per chi non lo sapesse è la Federazione Italiana di Pesca Sportiva e Attività Subacqua. Inoltre sono presidente di una società sportiva chiamata Fishing Academy, che è un'accademia di pesca per bambini, rivolta principalmente ad avvicinarli sia al mondo della pesca, ma anche a fargli vedere quelle che sono le problematiche ad oggi ambientali riguardanti l'inquinamento e la protezione degli animali stessi e la salvaguardia dei bambini. Io mi rivolgo a tutti coloro che sono genitori come me e in questi giorni si ritrovano spesso in casa ad affrontare pomeriggi luiosi insieme a questi bambini che vorrebbero uscire ed evadere. E allora il mio suggerimento saranno dei giochi e delle creazioni che potete fare tranquillamente insieme a loro, vi suggerirò anticipatamente quale sarà il materiale di cui necessitiamo per poter magari anche svolgere la creazione e appunto il gioco insieme a noi e grazie all'aiuto della mia bambina Giovia vi faremo vedere come è possibile affrontare questo periodo molto difficile. Vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube e a seguire le nostre pagine sia Facebook che Instagram cercando Fishing Academy. Non è un errore grammaticale o quant'altro ma è proprio fatto apposta così con due C perché sono in Italia quindi volevo italianizzare un po' il tutto. è stata una scelta personale perché strategica o linguistica o quant'altro. Quindi vi aspetto e seguiteci. Il nostro motto è Fishing Academy, una pesca va avanti!